Siamo in compagnia del segretario del generale del Calatino della CGL, Totò Brigadieci. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Alla luce, siamo in un momento particolare, un po' estivo di vacanze e quant'altro. Viene difficile pensare alle vacanze e al rilassamento nel momento in cui ci sono sul tappeto problemi sociali che intubbiamente non possono essere dimenticate. Io vivo tutti i giorni con rammarico il fatto di vedere un territorio che non cresce, dove ancora una volta manca il lavoro, dove non nascono possibilità lavorative, non si registrano assunzioni, non si registrano aperture di nuove aziende anche se piccoli. Registriamo soltanto licenziamenti e vertenzialità e dico che la CGL è fortunata perché ha un bel gruppo di giovani che si spende tutti i giorni nelle vertenzialità sia nel pubblico che nel privato. Abbiamo giovani come D'Amico, come La Rosa, come Sinatra, come Maggiore, come Bufalino. Ecco, la maggior parte sono giovani anche i volontari che si spendono per salvaguardare quel poco che ancora in questo territorio c'è da salvaguardare. Io naturalmente rispetto a loro sono un po' più anziano, per cui la mia agenda magari sarà... Solo una grafica, dai, avanti, non nello spirito. No, nello spirito no, assolutamente, nello spirito ho 18 anni. La mia agenda però non è così piena come la loro che sono giovani. Io ho un'agenda con due cose semplici perché non ho voglia di sforzarmi tanto. Nella mia agenda c'è scritto libertinia, nella mia agenda c'è scritto lavoro nero. E allora tutte le mattine, quando mi alzo, tutte le mattine io nella mente ho la libertinia e poi ho anche il lavoro nero. Il lavoro nero in questo momento l'agricoltura non c'è niente, per cui aspettiamo adesso la raccolta delle olive. Aspetteremo le arance, anche perché già un buon lavoro l'abbiamo fatto e l'abbiamo sfruttato, anche perché ti dico che stiamo anche preparando un report, un documentario, dove diremo alla gente che molte cose sono rimaste come erano 40 anni fa, 50 anni fa. E che pertanto questo territorio ha bisogno di crescere e di sviluppare, anche culturalmente, in maniera diversa. L'altra cosa che la mattina sempre ce l'ho nella testa è quella della libertinia, perché per me è un chiodo fisso che non riesco a togliermelo, perché io vedo la libertinia come un'infrastruttura importante per il nostro territorio, perché se non c'è viabilità, non c'è sviluppo, se non c'è viabilità, non c'è lavoro, tutto nasce attorno alla viabilità. Ed attorno alla viabilità noi dobbiamo assolutamente spenderci. Ecco, la libertinia sta andando avanti, ora, al di là di ogni cosa, almeno verifichiamo. Alcuni tratti vengono aperti, poi vengono chiusi, poi vengono riaperti. Ecco, a che punto è la situazione? Facciamo una fotografia di questo megalavoro che ci assilla e lo aspettiamo da oltre 30 anni, diciamo. Sono più di 30 anni perché io mi ricordo all'inizio dell'80 fino al 79 che già si parlava di libertinia, lo dicevo anche nel convegno di pochi giorni fa, che veniva presentato tutti gli anni come un'opera che da un momento all'altro doveva essere realizzata e l'allora presidente della regione, Nicolosi, la portava spesso come un esempio che già da realizzare. Anche il presidente D'Alema venne a Calteggironi un 2 febbraio del 94, se non vado errato. Quello che hai detto tu io l'ho detto anche nel convegno, per cui non volevo assolutamente saltare questo passaggio. È giusto che anche D'Alema, presidente del Consiglio, venne per mettere la prima pietra. Prima pietra che vediamo che ancora è stata messa là, senza che sia stata posta la seconda pietra. Per cui io non voglio fare assolutamente un ragionamento politico, questo l'ho detto anche nel convegno, perché appunto sto cercando, la CGL sta cercando di cambiare strategie, perché probabilmente la strategia che è stata attuata fino adesso non è che abbia portato grandi risultati. Diciamo che noi siamo l'organizzazione sindacale e non siamo l'istituzione che poi alla fine deve mettere in piede l'opera, però siamo un'organizzazione sindacale che guarda anche la questione del lavoro, la questione delle infrastrutture e credo che siano delle cose che dobbiamo anche prenderci a cuore, perché un'infrastruttura, come ho detto prima, può significare, specialmente nel nostro territorio, può significare lavoro e con tutto l'indotto che si verrebbe poi a creare appresso. Sulla libertinia spesso si parla come un gioco, ecco, non riusciamo ad arrivare ad una fine vera. Io ti posso dire che circa una ventina di giorni fa è stata chiesta un'audizione alla regione Sicilia, nella quale avevamo chiesto la presenza dell'assessore Pistorio e dell'ANAS, infatti siamo stati all'audizione, però nell'audizione purtroppo non abbiamo trovato nell'ANAS nemmeno l'assessore Pistorio, non abbiamo trovato nemmeno un dirigente, abbiamo trovato un funzionario bravo, voglio dire, l'ingegnere Fallette che ci ha un po' illustrato la situazione, ma ha illustrato la situazione in termini tecniche, che poi alla fine, in termini tecnici significa che lui si riferiva a delle strade, facendo riferimento a dei numeri, a delle lettere SP, 45 ST, cioè delle cose che naturalmente possono capire gli addetti ai lavori. Per cui ho visto che era stato fatto un ampio discorso, ci stavamo salutando perché l'incontro era finito, a che io chiedo, ma aspettate, abbiamo ragionato, ma io ancora non ho capito cosa devo andare a riportare al mio territorio di questa faccenda. Perché è vero che ho migliorato la mia cultura sulla questione dei numeri, che so che SP significa strada provinciale, che SS è strada statale, ma nel succo, nel merito della situazione, non ho cosa dire ai miei concittadini, ai miei iscritti del territorio. L'audizione è finita dicendo che dal momento in cui non c'era l'assessore, dal momento in cui non c'era l'ANAS, bisognava rifare di nuovo un'audizione dove erano presenti i titolati all'audizione. Per cui, come dici tu, direttore, perdere tempo. E di tempo ne abbiamo perso abbastanza e io vorrei che di tempo non se ne perdesse ancora. Perché io credo che molte volte ci siamo fatti scappare questo finanziamento e siccome, come ti dicevo prima, ormai io nell'agenda ho scritto solo due cose, che è il lavoro nero e che è la libertinia, non ho assolutamente intenzione, come organizzazione sindacale, di cancellare questo punto che io ho all'ordine del giorno, tutti i giorni, nella mia agenda. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto l'altro giorno un convegno a San Michele di Canceria. Perché la strategia di San Michele di Canceria? Appunto perché la libertinia nasce all'inizio con l'intento di portare questi comuni, San Michele, San Cone e Mirabella, e collegarli a Caltagirone. Per cui lì ho voluto dare anche un segnale perché l'ho fatta là. Ma nello stesso tempo stiamo cercando di cambiare strategia perché ci siamo accorti che la sola CGL non può assolutamente bastare. Può tenere alta l'attenzione del problema che noi abbiamo nel territorio ma oltre non può andare perché alla fine chi deve realizzare l'opera sono le istituzioni e appunto l'ANAS, la Regione Sicilia. Cosa ho fatto? In quel convegno ho cercato di invitare, anzi ho invitato, tutti i sindaci del territorio, tutta la deputazione regionale e nazionale, affinché anche loro si prendessero le responsabilità perché loro sono le istituzioni di questo territorio e sono coloro i quali prendono i voti per rappresentarci appunto nei comuni, alla Regione, al Parlamento nazionale e credo che sono loro che debbano rispondere di queste cose che non vengono fatte nel nostro territorio. Ho voluto anche puntualizzare una cosa che ritengo sia importante e coloro non devono essere i deputati dove devono mettere prima il colore politico e dopo la territorialità. Io ho chiesto loro di mettere di lato il colore politico, che questa non è una battaglia o una guerra, come io la chiamo, che riguarda il PD o riguarda Forza Italia, NCD. Io credo che questa sia una battaglia che riguarda tutti i cittadini di questo territorio e che i cittadini per poter usufruire di queste infrastrutture che ritengo sia importante per la nostra anche sopravvivenza economica sia necessario che la deputazione e i sindaci diano risposta a questo territorio così come questo territorio in ogni elezione si presenta ad andare a votare loro che appunto ci rappresentino. Ecco, la strategia che ho voluto cambiare appunto è questa. basta solo con iniziative per tenere alta l'attenzione, andare al bivio molono con i lavoratori, con bandiere, ma se a questo poi non ci sono le istituzioni che entrano dentro e ci vanno a risolvere effettivamente il problema, rimane un problema che sempre ne parliamo e sempre in computer rimane. Le istituzioni appunto devono recepire le istanze che vengono dal basso e poi farle camminare e portarle a compimento. Senti, ma per cercare di capire bene, perché stiamo capendo questa libertina in effetti vediamo un cantiere che aprono, io prima scherzavo, inaugurano, poi chiudono, poi riaprono e quant'altro. Ecco, cosa sta mancando? C'è la possibilità di una variante del progetto per avere anche su questa direttiva le uscite per Mirabella, per San Cono? Perché questa è una rivisitazione del progetto che non è previsto, quindi altri finanziamenti? Ma infatti ormai la questione della libertinia è diventata... Deve essere attualizzata, un progetto di 30 anni, 40 anni fa va attualizzato proprio per i ritardi che ha accumulato. Anche perché prima erano suddivisi in sei progetti, poi è diventato un solo progetto, poi sono diventati interprogetti, poi ci sono le varianti, ecco, sono così tante le cose da seguire che diventa anche, diciamo, impossibile avere tutto quanto chiaro. Ecco perché noi chiediamo le audizioni con la regione Sicilia e con l'ANAS, perché vogliamo vedere chiaro e vogliamo che si parli in italiano e anche in dialetto per poterli capire tutti quanti. Io quello che ho capito è una sola cosa, che ancora siamo in tre lotti, è stato inaugurato appunto questo secondo lotto. Il primo lotto è quello che a me fa stare più in preoccupazione perché appunto è quello che già è stato finanziato e più il tempo passa, più questo finanziamento sta fermo e più ci sono i rischi e i pericoli che ancora una volta questo finanziamento viene spostato in altre parti d'Italia. Allora il mio principale interesse, tant'è vero che già il 19 abbiamo chiesto, sì, luglio scorso abbiamo chiesto un'altra audizione, ma questa volta l'audizione l'hanno chiesta tutti i sindaci, i quali sindaci chiedono l'autorizzazione e a quell'audizione dovranno partecipare tutti i sindaci, tutta la deputazione regionale e nazionale e le organizzazioni sindacali appunto del territorio. Lì io credo che sia la sede dove bisogna fare chiarezza, dove dobbiamo guardarci negli occhi e da lì capiremo anche le istituzioni nostre del territorio, da lì capiremo qual è anche la loro intenzione, se è una battaglia che anche loro si vogliono intestare a prescindere del colore politico, ma solo perché sono rappresentanti di questo territorio e poi lì ne traiamo un po' le conclusioni. Subito dopo l'audizione andremo ad un'altra grande iniziativa di convegno dove verremo ancora a dire ai nostri cittadini del territorio cosa è stato discusso, dove siamo arrivati, ma nel frattempo nella mia agenda rimarrà sempre scritta Libertini. Allora, tutto viene rimandato a settembre a questo punto credo, è giusto? Allora, io poco fa ho ricevuto una chiamata dell'onorevole Raia, ti dico che anche molti mi chiamano, l'onorevole Raia mi ha detto che già ha stimolato l'onorevole Mariella Maggio che è il Presidente della Quarta Commissione, affinché questa audizione si facesse prima di andare in verie. Anch'io sono preoccupato perché se aspettiamo settembre, per me già aspettare, far passare tutto luglio, agosto e arrivare a settembre, per me è un periodo così lungo che c'è il rischio che il finanziamento possa anche prendere altre vie. Ecco, lo sto monitorando, lo sto guardando giorno dopo giorno, per cui ho anche la necessità che le cose si facciano in fretta. Allora, per tradurre in soldoni quello che il Segretario ha detto, per ribadirlo, c'è un finanziamento della Libertinia che credo sia qualche 120 milioni. La preoccupazione di Totò Brigadieci qual è? che c'è questo finanziamento sulla Libertinia. Se nessuno si attiva e lo mette in utilizzo, può succedere che il Governo nazionale, così come lo ha posteggiato, dedicandolo e destinandolo alla Libertinia, possa, considerato che nessuno lo sta utilizzando, nessuno lo sta attenzionando, nessuno ci ha messo una bandierina sopra, ma soltanto l'enunciazione del Governo che ha detto 120 milioni vanno per la Libertinia, in un momento di bisogno, un colpo di mano, non ci vuole niente che questi 120 milioni o parte di questi 120 milioni vengano destinati ad altri interventi, sempre di lavori pubblici, in tutti gli angoli d'Italia. E là subentra la politica. Ecco l'appello e la preoccupazione del segretario della CGL nel chiamare a raccolta le nostre istituzioni. Le nostre istituzioni sono i sindaci, sono i deputati nazionali e regionali che devono attivarsi subito per mettere in operosità, in utilizzo questi 120 milioni. Questo è il rischio? Hai detto bene? Sì, hai detto bene. Allora io non sono nemmeno un addetto ai lavori, per cui molte cose posso anche capirle a modo mio. Però credo di aver capito una cosa, dov'è la disputa tra l'ANAS e l'assessore della Regione Sicilia? La disputa sta in questo, che i lavori finanziati, così come questa della Libertinia in Sicilia, ammontano a circa 500 milioni, di cui 120 sono nostri per la Libertinia. Ora, da quello che ho capito, di questi 500 milioni dovrebbero andare il 12,5% all'ANAS come costo. Io credo che il problema nasce su questo 12,5%, che significerebbe 60-70 milioni di euro che dovrebbero andare all'ANAS e poi non ho capito bene anche il fatto che c'è la seconda disputa, è che se questi 70 milioni devono essere rendi contati o devono essere dati a forfè. Ecco, queste sono le cose per cui ho invitato le istituzioni a chiudere questa pertenza, a trovare l'accordo, se questo 12,5% deve essere cambiato, se è necessario o meno la rendicontazione, ma loro devono essere coloro i quali devono assolutamente chiudere questa pertenza. Va bene, allora, chiudiamo questo incontro intanto, ringraziamo Totò Brigadieci, segretario generale della CGL del Calatino, non è generale, è generale, è segretario generale della CGL intanto di queste notizie, ti ringraziamo anche dell'attenzione che riversi su questo importante provvedimento, 120 milioni che potenzialmente sono spesi in questo territorio, perché non è soltanto il tratto di strada, ma è tutto il lavoro che c'è attorno e comunque dotare questo territorio di un'infrastruttura essenziale di cui ne ha bisogno per tirare fuori dalle secche, per esempio in questa fase di questa parte del progetto della Libertini a San Cono, Mirabella, San Michele di Canzeria, che non hanno sbocco su questa linea, su questa direttiva della Libertini. Io durante il convegno si presentò un amico mio, anche collega, dove mi disse sai da Scordia ne sono venuti pochi perché eventualmente se la Libertini inizia i lavoratori di Scordia non hanno possibilità di lavoro. Il problema della Libertini non è soltanto la possibilità del lavoro, il problema della Libertini è un'infrastruttura e tutto ciò che poi farà nascere quando l'infrastruttura sarà fatta. Poi naturalmente durante la costruzione della Libertini ci saranno quei due anni, tre anni di lavoro che usufruiranno tutti quelli del territorio, ma io credo che la questione principale è che venga fatta l'infrastruttura perché è quella che poi dà veramente lavoro e sviluppo a questo territorio. Grazie, auguri buone vacanze se non ci vediamo ancora. Ciao, grazie a te. Grazie a te.